Scontro playoff al palazzetto di Via della Torre dove lo SportsCenter prova ad allungare sul città di Teramo in un match ostico e tattico, tanto che lo spettacolo la tiderà a lungo. Ma procediamo per ordine. Quinto, panacce alla conclusione, semplice per il portiere. Sesto, ancora Celano con un Torrelli più ficcante, ma la mancanza di precisione è decisiva nell'occasione. Tredicesimo, ancora padrone di casa con un tiro cross di Gianni a mezza altezza, neutralizzato a fatica dall'estremo Teramano. Si gioca ad una porta sola e al ventesimo i Castellani recriminano di nuovo per il miracolo ospite. Serpeggia però del nervosismo nelle file locali che esploderà più in là. Ventisettesimo, tocca all'umacone provarci senza successo però. Trentunesimo, fallaccio panacci che gli costa la doccia anticipata. E i marsicani pagano subito Dazio per l'inferiorità numerica provvisoria. Schema su punizione che libera Franceschini, letale per lo 0 a 1. Ripresa che parte a sprombattuto con i locali che giocano con il portiere di movimento e ne raccolgono subito i benefici. Siamo al primo quando i celanesi agiscono di volo con Torrelli che pesca Tobia Paris, molto efficace nell'ultimo tocco. Partita di nuovo sui binari dell'equilibrio ma il vento sta per cambiare al palasport. Sesto, Tobia Paris aggancia in bello stile ma non conclude con altrettanto costrutto. Ottavo, scambio di favori tra Paris e Torrelli con quest'ultimo in gol e poi a tratti oxfordiano nella sua esultanza polemica. Partita ormai indirezzata e dopo appena 60 secondi Torrelli concede il bis per un 3 a 1 che sa tanto di definitivo. E infatti da lì in poi sarà un continuo tiro al bersaglio procelano. Se vi debbero ore per mostrare tutte le azioni e così ne scelgo una tanto per rendere l'idea. Ventitresimo contestabile al piattone e solo lievemente impreciso ma che poco sposta in una prestazione comunque di rilievo. Grazie. Grazie a tutti